Oddio però da 18-8 devi andare proprio full abilities ma proprio della serie con Black Leaver e Axiomar che è quella roba lì eh, cioè Devi farti quegli oggetti di merda, se no non ci arriva 8 secondi, se no starà sui 9 o un pochino di più anche Oltretutto ricordatevi che c'è anche il cast time Che quello sembra una cagata però Ho detto vedare ci sei, cioè comunque ci mette un secondo e mezzo a scoppiare ok, oddio santo, è un po' morto C'ho neanche il flash, niente non ci arriva mai nessuno, guarda adesso c'è spugli in iron, proprio non ce la si può fare Vabbè My bad Avevo altabbato, eh ma avevo altabbato stavo guardando la wiki, è quello il problema Oh ma meniamoli adesso, sto arrivando Revenge, sì ma non attaccare la copia Ma cosa, cosa ha fatto le blank Dai Che cazzo è stato? Ma porca puttana Niente, sto killando È arrivato il fear di sta troia Oh ma Ok dai Ok dai Allora Swain jungle Inizio Cacciarissima E siamo senza pull Ok, abbiamo il pull Bene Sono più contento adesso, sono più contento Questa è un altro po' no, chiedo Io ho ricliccato lei ma non ha fatto niente Avrò sicuramente sbagliato I lose a lot of farm Però cazzo i tuoi Ah non funziona anche le mostre, giusto Eh Cazzo, ma perché me sta andando a puttana l'audio? Ma è questa, ma chi sta e me n'ha? Niente di meglio che R.I.S.U.B.B.A.R.S.I. Con l'uccello in azione Bella rì Ok Che pazienza sta partita Per il circo proprio Perché Varus è così arrabbiato? Ma cosa sta succedendo? Ora capisco Ora capisco perché Grazie Andy giù per i 18 mesi Bentornato Bentornato Inizio spy Reported Ho notato che Cioè era lì che recallava Ma si è fatta killare Con 100 HP qua Non è carino Ovviamente Ma come c'è arrivata lì? Raga io non... L'Eva va lontanissima Ma non si può stoppare prima questa Ma come funziona sto campione? Ora capito perché non ho mai giocato Allora Cosa sono tutti sti ping? Rap support please Wait Wait What are you doing? Io non so cosa sta succedendo Bottlin ragazzi So come mai Siamo tutti così arrabbiati In sta partita Stanno tutti incazzati neri Comun Nice Report me su P2 Ecco Sì A volte non l'è in più bella Perché succede una cosa assurda Confermo Non si sente E il trinche Oh shit Oddio Che sono tutti Stavite ho perso Ma l'ho fatto 3 HP di danno Una Q Scusate ma come l'ho fatto così poco danno Con anche il Dark Harvest Ma l'ho fatto tipo 5 No ma neanche Tipo 20 HP L'ho fatto una Q L'ho presa con così poco? No 84 Magic Damage Più 17 Per Bolt Pass the first Vabbè Le Blanc ha subito tipo 20 HP ragazzi Eh ma anche con un unico full Mi dice Mi dà 84 Più 17 Per ogni Per ognuno di quelli No non funziona così Quindi minimo 84 Forse Oh non lo so Se voleva l'Mres Oh si scusami Togliamo il 25% Sarà difficile sta parte C'è già 10 kg avversari in 7 minuti So manco mi sa possibile Ma poi le Blanc e il support Perché parcheggiate in mid lane? No dio madonna No ragazzi Non riesco a giocare sto campione Oh mio dio Ho una fatica fuori di testa Mi sento Mi sento Non posso dire la parola Mi sento come il vecchio Swain Ecco Chi conosceva così Il vecchio Swain Ha già capito Mi sento in questo momento Come il vecchio Swain Swain Wanna go top Fare cosa? Top lane Eh ma fare cosa? Sono il jungler Dove Ah proprio lui Ah lui vuole andare a Fk Ah beh non fa una piega È fatto il support Ah allora si Vabbè E sono tutti straffidati ragazzi Nulla da fare Io voglio sapere Cosa è successo Bot lane ragazzi Sono troppo curioso Vabbè Questo che Dai ma non ci Beh era Tuck Oh Questo è Kashin Let's go Comunque Swain Jungle Non è neanche orribile Cioè non fa una giga fatica A farmare la giungla È la partita Che è una merda Cioè non è orribile Swain Jungle Come vedete Un attimo Fermi questo Così ho la ult Però io Lo finisco Non è che Soltanto perché Tu mi pinghi Allora arrivo prima No Spendo il Dark Harvest E insomma Andiamo con il Ludens Fanculo Beh allora Che posso far Splodere ulti Lo so Però Allora Voi considerate Che io non ho mai Giocato sto campione Quindi devo un attimo Capire come funziona Non sto riuscendo a fare Perché sto game È una cacciara atomica Ho preso la passiva Mi sa Andiamo dove inizia a scappare Prendiamola Ok 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 Boom Ok Ok Sarebbe il Drago Da fare Però do bot Questo tira giù tutto Ma mi sa Che la distrugge Distrugge La distrugge Però Almeno lo killiamo Almeno lo killiamo Secondario Max W W è Mi sa W Lei mi sa È un po' Una merda Non ti dà niente Maxandola Ti dà solo un po' Di danno Fine Oddio Vabbè Niente Vex Tasto dell'hotplay potente Però abbiamo Illudence Abbiamo Illudence Maxandola W aumenta Anche il range Quindi in realtà È molto utile Cioè Arriva lontanissimo A un certo punto Ovviamente Non giocheremo Strabacqua Ragazzi Andiamo full AP E penetrazione Quindi mi sa Che andiamo Di Shadowflame Qua Comunque Burger Queen Sta facendo un bordello Adesso va Toplin Distrugge il coso Toplin È un po' fastidioso Il ragazzo Ok Uccelli Venite a me E' tu bro Ok Ottimo Abbiamo preso il drago Che sono tutti sti uccelli Guarda L'uomo degli uccelli Comunque la Q Fa un sacco di danni In mostri della giungla Non so se avete notato Cioè Fa veramente Un sacco di danni Se non ci fosse stato Il circo totale In sta partita Sembra Indubbiamente Meglio Morgana che fa Passeggia per la giungla E basta Cioè Io apprezzo Il tuo aiuto Morgana Però vai a fare qualcosa Di realmente utile Venite qua Uc Ah Ok Strage Abbiamo cliccato un sacco di tasti Quanti uccelli che ci sono qui Uccelli a me Comunque Vedete Alla fine mi serve soltanto un attimo Per capire Un po' come funziona il campione Quando gioco qualcosa di nuovo Non penso che ci abbia guadagnato tantissimo A diventare Horn Senza offesa Non mi è sembrato un ottimo acquisto A Shadowflame che ci serve Ci serve il one shot qui Poi direi Rabadon Ok Sputato E infuocato Questo usando HP E ta Ma che cazzo è sta build di Mera Questo non carrierà un cazzo L'unica possibilità che avevano Era sto tizio qua Che era straffidato Da early game Ma sarà totalmente inutile A breve Cioè Lui è già in realtà Con sta build È già totalmente Tuk Ok E sono undici Quasi un anno Con lo streamer Che mi ha fatto amare Questo gioco Tuk Oh shit Ma ha flashato la merda lì Vabbè All'hack Mi sarebbero ancora un po' di danni O la zonia Però la zonia mi sembra un oggetto Un po' tanto pussy Cioè Rabadon direi Ah Ah Gli oggetti di Horn Non ci avevo fatto caso ragazzi Chiedo scusa Eh Pensavo che fosse Eh Minchia C'è ancora sta roba qua Scusa ma Cioè Se lui muore C'è ancora sta roba qua Che se lui muore con Come dire Con la passia su qualcun altro Gli lascia gli oggetti Finché non lo rivedi Oh va bene Ok ok Giustamente Scusa ma ha dato il Dark Harvest Con l'Uda Insettato tutti Questa con il Clive Lo shop aperto Ok Ho succhiato Ho succhiato Ragazzi Tipo Morgan e Bot Questo sta passeggiando Per la giungla Varus sta rubando La giungla nemica Parus sta rubando Tutto Oltretutto Devo anche farmare Se non riesco a prendere Questi Però è Un continuo Combattere È un continuo Combattimento Qua C'è un herald In mid lane Ok Ok Ma come ho preso Va bene Tutto sommato va bene Ragazzi Questo non c'ha più mana Eh la zona è da fare Ma io voglio fare Una roba un po' più speziata Cioè La zona è un po' troppo normale Voglio fare tipo Full AP one shot Con Rabadon Ludens Però C'è Fa ridi che ci ha pure provato A doggiarla Non ce la fa Non so cosa stia facendo Sto clown Va bene Non importa Va bene così Va bene così Comunque Sto arrivato in punto In cui la shotto La giungla Molto buono Vedete Beh ci mancherebbe Altro Che palle Devo farmare un altro campo Adesso Vabbè Non fa tantissimo danno Devo dire Però si è fatta apposta Se no sarebbe un po' sbroccata Effettivamente riesco a spararla da qui Ci sta che ne faccia poco Oddio Qua Tuk Nice Tuk Adesso ci divertiamo Ok 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 E sarà andato Uccelli aiutatemi voi Dov'è Dov'è il ragazzo Oh eccolo Come l'ho missato Fatemi shoppare ragazzi Fatemi shoppare Che è meglio Ah yes Let me shoppare Questo vogliamo fare il drago Il baron Vediamo questo Va Finché ora Tiro delle sberle Non indifferenti Ragazzi No Non mi piace Eh niente Questi fightano Di continuo Meno male Che con la mia W Adesso C'è chi nero Qualcuno Guarda Ah Mamma mia Ok È veramente una godura W di Swain Questo va detto La W di Swain Proprio è una godura È È È sesso È come fare sesso Dimmi un'altra volta Dimmi un'altra volta Dimmi un'altra volta bro Ok Andiamo a fare Ma bro Ma così ti vedono Non toglierla La ward Stavi facendo tutto bene Ragazzi Allora Quando c'è una control Che sta togliendo visione Ad una ward Se voi attaccate la ward Date visione Cioè fate capire Che siete lì Invece Se voi la lasciate lì Loro non sanno nulla Sanno solo Che c'è una control Qui Non sanno che stanno Facendo il drago Come ho fatto A prendere la morgana Vabbè Porca draga Pizza Ups Oh è questo Tuck Mamma Uè capo Vi è qua Vi è qua Stronzo Vabbè raga Ma io Porca troia Cioè io sto Facendo strage Dal dragon pit Proprio Senza muovermi Il colonnello Il colonnello A qualcuno potrebbe dire Fieric È ora della zonia No Non è ora della zonia Mi dispiace Non è assolutamente Ora della zonia È ora dell'horizon focus 10 magic pen Ragazzi Non mi servono a niente Preferisco il 10% Di danno maggiorato Mi da questo Mi da Quella reduction Mi da 10% Danno maggiorato Mi da 10 di AP in più Eh sì Anche perché poi Cioè con questo Sono sempre fuori range Quindi Mettendo oltre 700 di range Oddio L'hai sentito eh Fratm St'ha fatto un po' male Oh 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 Pesca grossa Palle Palle No Ok Bombardata Oh, 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 scende qualcuno qui Oddio, è partito quell'altro Ah Bec Questo che ha potenziato Ma ha potenziato Morgana Cioè, ma tra tutti quelli che potrei potenziare E' potenziare il support Beh, oh, boh Ma io, boh Manco dire fosse l'unico danno a P Ci sarebbe danno a P, porca puttana Siamo full a P, praticamente, dov'è potenziare Morgana E voglio shottare qualcuno Nuovo campo dei lupi Eccomi qua Sparisce Ma come fa ad essere così veloce che c'ho il fottuto ghost, ragazzi Oh, santo madonna, va bene Comunque devo dire una cosa che Non ha tanto burst sto campione Quindi non è worth giocarlo così Ma penso che lo sapevate Penso che lo sapevate Non è tanto worth giocarlo così Giustamente direte, beh, Fenix, sennò che trollpick sarebbe, scusa, sennò sarebbe meta Vi dico, avete anche ragione, avete anche ragione Ottimo TP complimenti Nasus Young dopo Grazie Zuka per i due mesi bentornato Nasus Young dopo Beh, si sa che effettivamente Dalla A alla Z Dopo Swain C'è Nasus Proprio ordine alfabetico È esattamente quello Sì, grazie ai due mesi bentornato Ricotta di maglia, grazie ai 12 mesi Hanged, grazie al Prime Andigio, grazie a più di 18 mesi Grazie mille, ragazzi L'unica spell che fa veramente tanto danno è Tanto non mi serviva per tua fortuna Se no, se no glielo smiteavo in realtà Quindi Ok Ok Ahia, la mia povera anima Prendo tutto io Bastardi Tutto mio Tutto Non è enough per Noxus essere forte? Andiamo a pushare top Pushiamo tutto qui Comunque C'è, ho un range gigantesco C'è più delle ulti di Pantheon tipo Qual è quella giusta? Non ho visto Vabbè, questa Del resto Un olfatto non indifferente Meglio di un segugio No, mi ha rubato Aurelion Mi ha rubato la kill, bro Cosa? Cosa? Sparisce Dove sta andando questo? Stronzo Semmaforo rosso Eh Ok Ok Lui Lui prende Lui Lui colpisce Erith Grazie mille del sub Gentilissimo Grazie mille questo sub Io vi faccio notare che Abbiamo 102 kill al minuto 30 Movimentato il game Movimentato Wait for me Comunque non so Allora Non so se vendermi le scarpe Per prendere il cosmic drive Secondo me non è una buona idea Perché Con tutta la magic resist Che tolgo In realtà sono molto più forti le scarpe Fossero le scarpe Tipo dovessi cambiare le Ionian Lo farei Però queste qua no C'è 18 di magic pen È tanto Questo mi darebbe solo 5 Quindi perderei 13 Solo che 13 è un botto Cioè Prendete mi fa fare danni puri Su campioni tipo Vex Ma ragazzi Però se fate tutto voi Eh no eh Non andiamo d'accordo così Stiamo d'accordo Niente E fan tutto loro ragazzi Fan tutto loro E niente Aurelion Soul ragazzi Aurelion Soul gameplay Eeeh Aurelion Soul gameplay Aurelion Soul gameplay Aurelion Soul gameplay Aurelion Soul gameplay Eeeh Upiswain Grazie 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 per il mio appato l'oggetto Ah no aspetta Non l'hai fatto Idiota Yolo Swagger Vabbè col nome Che c'ha Allora che dire Il campione in sé Non è male Non ci si può spazzare molto Con la troll build Purtroppo Quindi Cioè è un campione Che giocato Come deve essere giocato È bello Però non Cioè non puoi essere creativo Ecco questo sto dicendo Non puoi Fare robe pazze Ma ci sta Cioè è giusto Che c'hanno anche i campioni così Sono io un po' Sono io un po' Come si dice Pignolo per certe cose Eeeh Sì Sì Comunque è top damage Una certezza E adesso